Operatori internazionali provenienti da sei paesi europei ed extraeuropei a vite sul mare per incontrare le aziende della ceramica artistica delle regioni obiettivo convergenza, cioè Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. L'iniziativa rientra nell'ambito del programma operativo per la seconda annualità del piano Export Sud a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese organizzato dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero ed internazionalizzazione delle imprese italiane, d'intesa con la CNA di Salerno. Più di 30 le aziende coinvolte sia nel salernitano che nelle altre province campane e delle altre regioni interessate. Per la campania fai la parte del Leone la provincia di Salerno ad iniziare ovviamente da vetri sul mare, da sempre paese ceramico, e poi Giffoni-Vallepiana, Monte Corvino-Rovella, Ponte Cagnano-Faiano. All'Oitz Baia anche aziende di Arzano, Cerrito-Sannita, Pollen-Atrocchia, Benevento e Napoli, oltre che di Paternò e Caltagirone in Sicilia. I buyer sono stati selezionati dall'Istituto per il Commercio Estero e sono giunti da Cina, Croazia, Francia, Slovenia, Ucraina e Stati Uniti a conferma dell'interesse per la ceramica artistica meridionale. Ad aprire l'evento il saluto di benvenuto del Sindaco di Vietri e dell'Assessore della Ceramica, oltre ovviamente agli organizzatori. Sono delle iniziative molto importanti, non fosse altro perché si parlerà di Vietri nei prossimi mesi in località, in nazioni di tutto rispetto e di grande portata, sia dal punto di vista di quello che è il marketing e la promozione del territorio, sia dal punto di vista economico, perché sono delle città, sono delle nazioni, o facenti parte di questi cosiddetti paesi emergenti, oppure quelli già consolidati come nazioni più forti dal punto di vista economico al mondo, tipo gli Stati Uniti, ma non da meno la Francia. E il fatto poi che ci sia l'interesse della ceramica vietri significa che i ceramisti, le professioni da locali, hanno lavorato bene, hanno imposto il nome di vietri. Ma evidentemente anche l'amministrazione ha fatto quelle attività promozionali e di pubblicità idonee e, come dire, su misura per ospitare questo tipo di attività e di workshop. Il fatto di incontrarsi con buyers internazionali è un fatto di estrema dinamicità e che può comportare degli sviluppi. Allo Stato non se ne conoscono gli esiti e i risultati, ma c'è una potenzialità di sviluppi economici e di produttività di un certo rispire, di una certa importanza.